Riparte l'estate dello stellario, la discoteca a cielo aperto che per anni ha fatto ballare sotto le stelle al parco archeologico della Civitella di Chieti. Si apre con la musica del DJ Harvey che è stato tra i primi esponenti del sound da discoteca Garage House americano nel Regno Unito. Una leggenda che il Rolling Stone America ha definito il Kate Richard dei DJ. Finalmente si concretizza questo contratto di gestione che la nostra amministrazione mediante la deputazione teatrale ha messo in campo. Una gestione che prevede la durata di ben tre anni di tutto il parco archeologico, sia dell'anfiteatro dell'arena e sia della parte di Piazza di Resta dove si è sempre fatto l'intrattenimento con il cosiddetto stellario. Oggi siamo qui proprio per presentare la stagione dello stellario, una rassegna importante a cura di un direttore artistico e importante qual è Arturo Capone. Con artisti e DJ di carattere internazionale oggi abbiamo presentato DJ Harvey che è il primo di questi ospiti che avremo. Amico mio anche un po' perché sono il suo primo fan e soprattutto perché da quando è tornato dopo dieci anni di assenza dall'Europa l'abbiamo fatto sempre a Chieti. Quest'anno sono contento perché ha deciso di venire solo a Chieti. Aveva sotto nel piatto la proposta di tre grandi eventi, tre grandi date in Italia, Milano, Roma e Napoli, ma ha deciso di venire solo a Chieti. Quindi io sono contentissimo. Per me Harvey è il DJ di riferimento, ma non solo per me, per la gran parte di tutti i DJ del mondo, DJ Harvey è il riferimento. Lui tra l'altro è il DJ resident della discoteca di Ibiza dove andavano nomi illustri. Sì, sì, lui fa il lunedì al Pikes di Ibiza che è il party più bello d'Europa, ma non solo il Pikes. Harvey ha richieste di residenza in tutti i club del mondo, dal Panorama Bar al De Marcantin, tutti i club Lux Fragile, tutti lo vogliono per una residenza. La rassegna è dedicata all'architetto Claudio Finarelli che si occupò proprio della realizzazione del Parco archeologico della Civitella. Parco archeologico che fu progettato dall'architetto Finarelli è un ricordo anche questa rassegna in nome suo. Sì, devo davvero ringraziare l'amministrazione ed Arturo per aver voluto omaggiare la figura di mio padre, anzi della persona che posso dire di avere l'onore di chiamare padre. Spero assolutamente che possa essere un'occasione per onorare quella che era la volontà iniziale, ossia quella di riportare i giovani e dare uno spazio da abitare e da vivere veramente. Grazie. Grazie. Grazie.